Xeo Power è l'ultima novità roventa, un prodotto rivoluzionario che rende lo stiro facile e veloce. Questo sistema all in one è dotato di tutto quello che ti serve per stirare. Asse da stiro e caldaia ad alta pressione ed è pronto all'uso in soli 70 secondi. L'esclusiva asse da stiro a tre posizioni permette di stirare più velocemente e facendo meno fatica. Oltre alla tradizionale posizione orizzontale, l'asse può essere usata anche in modalità inclinata, ideale per stirare facilmente qualsiasi tipo di capo e perfetta per le camicie e in modalità verticale per infrescare i tuoi capi anche all'ultimo minuto. Il comfort è ulteriormente favorito dalla maneggevolezza e leggerezza del ferro da stiro, che pesa la metà di un ferro tradizionale. Il segreto della stiratura facile e veloce di Xeo Power è la potenza della caldaia ad alta pressione. Grazie alla forza del vapore sarà possibile stirare alla perfezione qualsiasi capo. Inoltre, grazie alla tecnologia Smart Protect, non dovrai preoccuparti di impostare la temperatura. Potrai stirare qualsiasi tipo di tessuto, anche più delicati, senza alcuna preoccupazione. Infine, la caldaia movibile e trasportabile da 1,1 litri è perfetta per avvivare e rinfrescare i tessuti grazie all'azione igienizzante del vapore, che elimina fino al 99,9% dei batteri. È il caso, per esempio, di tende, divani in tessuto, lenzuola, copriletti e molto altro. Risultati professionali, versatilità, rispetto dei tessuti e minore fatica. Xeo Power rivoluziona il tuo modo di stirare. Xeo Power rivoluziona il tuo modo di stirare. Xeo Power rivoluzione 1